Non ci stancheremo mai di denunciare e non ci fermeremo di fronte a questa intimidazione. Valerio Peritore, il coraggioso imprenditore licatese che assieme al cugino Angelo Ingorvaia, ex finanziere a riposo, ha messo su un'azienda che si occupa di bonifica ambientali, la Omnia SRL con sede a Licata in contrada Piano Bugiades, seppur scosso da quanto accaduto non getta la spugna, anzi rilancia e sfida che ha compiuto l'intimidazione nei suoi confronti. Non ci fate paura, non riuscirete a fermarci. Nella notte, tra lunedì e martedì scorso, un messaggio con minacce di morte e due cartucce inesplose di fucile calibro 12 è stato fatto trovare all'ingresso della ditta Omnia SRL di Licata. Sotto il mirino dei malviventi, i due titolari della ditta, Valerio Peritore ed Angelo Incorvaia, gli stessi che avevano fatto arrestare nel mese di settembre del 2017 un dipendente del comune di Campobello di Licata, Francesco Lamentola, il funzionario del settore ambiente dello stesso comune, Giuseppe Nigro, per una tangente da 3.000 euro che gli stessi avrebbero chiesto alla Omnia per sbloccare il pagamento di una fattura per lavori eseguiti per conto dell'ente. Su un foglietto arrotolato, oltre alle cartucce, una di colore rosso, l'altra di colore verde, c'era una scritta con un pennarello nero, V e A, che non sono altro che le iniziali dei due titolari della Omnia, Valerio e Angelo, ed un numero uno per uno, come a dire uno è per te Valerio e l'altro è per Angelo. I due, naturalmente scossi da questo episodio criminale, hanno presentato denunce ai carabinieri del nucleo operativo dei Grigento, con il dettaglio del messaggio ricevuto e consegnando la lettera di minaccia che è stata sequestrata dai militari dell'arma. In una lunga denuncia presentata ai carabinieri del comando provinciale, Valerio Peritore ha ricostruito quanto accaduto. L'area esterna dell'azienda, che si trova sulla statale per Campobello di Ricata, alla periferia della città marinara, è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Le riprese sono state consegnate ai carabinieri, ma essendoci buio non si vede granché. Quindi, da quei frame, sarà difficile trovare qualche elemento utile alle indagini che sono state avviate. L'unico collegamento per il quale gli inquirenti starebbero lavorando è legato a doppio filo con la denuncia fatta da Peritore in Corvaia nei confronti di Francesco Lamento, la 48 anni campobellese, ma residente a Ricata, che lo scorso 13 settembre si è presentato nei locali di l'impresa, essendo dipendente del comune di Campobello di Ricata, per intascare una tangente da 3.000 euro che chiedeva per sbloccare il pagamento di un servizio di bonifica ambientale svolto dalla Omnia per conto dell'ente. Ma alla richiesta estorsiva i due imprenditori ricatesi hanno risposto attraverso una denuncia ai carabinieri che hanno teso una trappola alla mendola ripreso con una telecamera installata nell'ufficio di Peritore e lo hanno arrestato non appena si stava dirigendo verso l'uscita dell'azienda. In quella occasione il dipendente comunale tirò in ballo anche il suo capo ufficio, il dirigente Giuseppe Nigro, dicendo che la tangente avrebbe dovuto spartirla con lui. I due sono stati arrestati e dopo dei giorni di carcere sono finiti ai domiciliari, dove si trovano tuttora. All'indomani dell'intimidazione subita dai titolari della Omnia era previsto l'inizio del processo e infatti martedì mattina sia la mendola che i nigro si sono presentati in tribunale per l'inizio del procedimento, essendo stati citati direttamente in giudizio, senza passare dunque dalla fase preliminare della richiesta di rinvio a giudizio per l'inoppugnabilità della prova. La mendola, difeso dall'avvocato Angelo Balsamo, ha chiesto di patteggiare la pena, mentre Renigro, rappresentato di difeso dall'avvocato Salvatore Manganello, si sottoporrà ad un processo contatto di dibattimento. Accanto agli imprenditori della Omnia chiederà di costituirsi parte civile l'associazione anti-racket di Gela, secondo quanto annunciato dal presidente Renzo Caponetti.